Eccoci qua ragazzuoli, secondo gameplay di Dark Souls 2 Oggi iniziamo a fare la campagna vera e propria Però prima vorrei tornare su una via che avevo visto prima Che in teoria se non mi sbaglio era di qua Non corre proprio per niente, non so, a meno ossigeno di un fumatore incallito da 20 anni Di qua? Giusto? Non l'avevo mai vista sta roba Cosa c'è? Ho già un uomo quello di Che bella spada, mi dai la spada Dai dammi la spada Si Eh? Quale stato? No, lo so, a me lo chiede Sono appena morto Nato morto Si, nato morto Gemma vitale o so del ritorno? Buona Allora Uh Ah addirittura Già comincia a picchiarmi Che Uh Uh Scappa Forest Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta Come si fa, come si fa Ok Ah Mamma mia Fanno prendi o Eh, si Eh, ho preso Ok E mi sa che è un po' difficile questo Allora Dai, pianino Pianino Eh, mamma mia che nabbo Che so Preso Capacca Boom Boom Quarantaquattro Ma se lo prendi in testa Ok, non cercherò più di prenderlo in testa Quante frecce ho? 17 Non mi ispira sto numero Ho preso su un braccio Vieni, vieni qua Bello mio Mamma che muso che ha Aspetta, guardo vicino E provo a vedere La faccia che ha Non col col coltello Va che bru Va che Eh, si Dai Bravo Non tornare dentro No, 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 no Ho altre 12 frecce La provo a sparare in un'altra Ok, l'ultima E adesso gli vado addosso Senza Cercare di farmi Colpire Perché Ah Muori 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 Vabbè Non c'è male Allora Di qua invece Nessuno, giusto? Non c'è nessuno Oh Cos'è? Vabbè La prima volta di qua Sperando che non ci sia Ok Talismano di Liod Che sarebbe No Allora Sarebbe inventario Sì, comunque Ho visto Da Riguardandomi Che gli anelli In teoria Si mettono qua Sì Ok Cosa sarebbe Quella roba lì Guida Questo è Peso Vabbè Però Per la torcia Non so ne ancora Come si fa Chi mi consiglia? Allora L'inventario Abbiamo tirato su Bellissimo Non ricordo Impedisce Il ripristino Dell'estus In un'area Limitata La fiaschetta Sarebbe la fiaschetta Estus Quella del primo No? Perché dovrebbe Usarla Una persona Se Serve la fiaschetta Estus E tu Gli blocchi Il ripristino Gli faccio Un backstep Mori 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 Dai corri Corri Pagliaceto Dai Pagliaceto Corri Venico Che ti sbragagno La famiglia Vieni Pagliaceto Aia Mamma mia È più Più brutto No non è più brutto L'altro era più brutto Muori Gemma vitale Buona Comunque Da quel che ho capito Allora Di qua Non c'è niente Di qua Ci serve Sta statua Esamina La statua Blocca il tuo Cammino Vabbè Quindi di qua Però non si può fare Nient'altro E vado via Dai corri Sì di qua Poi di qua E torniamo Al falò E adesso Esploriamo un po' Tutta Questa città Oh chi è quella Donna misteriosa Cassa oggetti No Per adesso Mi basta recuperare La forza Allora Sei il prossimo Monarca No No La fiasca Estus E dovevo prendere il sole Cioè non so Parla Quindi saranno Quattro boss Sicuramente Vabbè Cosa mi dici Ok È un tipo di Settlement E in Trang Lake In Trang Lake In Trang Lake In Trang Lake Devo trovare la chiave Dai rotola Oh C'è un oggetto Qua Un po' Di gemmi vitali Adesso Qua niente Di qua Di qua Gemmi vitale Sempre buona C'è schietta Estus Allora equipaggiate Giusto Ripaggiamento Allora qua Metto Ripristi Aggermente E gli utenti Cantesimi Ah Completamente Vabbè Intanto Me la metto Unì Così Che se mi serve La uso prima Questa Senza sprecare Le gemmi vitale Apri Tome Chino E parla No No Grazie Questo oggetto Sorbi PV Riduci i danni Facilita L'individuazione Da parte Di In 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 di determinati pezzi... ma lestus saranno i mob, quelli di mostri cioè... Non c'è nulla a fare, credo Vabbè, questo è dismayo Oh, benvenuti al mio... Oh, scusate, potrei veramente usare il business Ok, non posso permettermi niente per adesso Però dovrei avere gli oggettini dolciosi Che mi permettono di prendere un po' d'anime Come si fa? Usare Così, sì Usa Poi usa Due E insomma Butta le via Allora Vediamo se ha qualche armatura Che mi potrebbe interessare Quindi mi passo un po' tutto Tranne Cosa sono questi? Taglio Così gli attacchi da fuoco E qua era Capace di essere l'impatto Di attacchi Vabbè, ma tutto il resto Dai, io me l'equipaggio Si può vendere le altre robe, no? Beh, per adesso Vabbè, per adesso Non credo si possa vendere Saliamo Oh Oh Frammento di titanite Allora Scendiamo Adesso Siccome che l'hai chiuso Direi che si potrebbe già proseguire Di là Non credo Vediamo a vedere un attimo Che ho visto Già una via Ma che ingegno Non si muove Grazie a tutti Io direi Allora Che si potrebbe proseguire Di qua Dato che Accendi la torcia E perché prima Non me l'ha fatta mai accendere? Cioè Sull'altro gameplay Allora Qua intanto Apriamo Sì Dai Apri Mamma mia E personaggi Moneta arrugginita Allora Vediamo Di qua Niente Qua Qua Oh Una leva Sì Tira Bravo Scusate Scusate un attimo Ragazzi Che ho risposto al telefono E La torcia Mi si è spenta Però Vabbè Continueremo Nell'oscurità Così c'è ancora Più 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 Darkness Perché Vedo Ok Qua moriremo Quasi Sicuramente No No Qua Posta E Figi Umana Ma qua Si può andare Giù Cioè Dovrei saltare Di là Per forza Ok Per adesso Evito Su 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 E adesso Andiamo Di qua Foresta Si Foresta Dove dovevamo andare Eccolo lì Cercherò di prenderlo Dalle spalle Oh Questo Attacco qua Boom Oh Di là c'è un oggetto Come si è Di là Ah Di là Anche Ok Allora Via Madonna mia Questo qua Cioè Sono un po' Obbriati Stai Non morti Allora Per parare Non mi ricordo Ma non ho Lo scudo Quindi c'è Impossibile Una cosa Però qua In teoria Posso saldare Chi è L'arci Allora Così Via E morite Tutti E due Da Però vedevo un arciere Io Mi sparava Forse erano Di due Qua Ah no C'è ancora Dov'è Ah eccolo là Madonna Ah Dolore Mori No 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 Bene Vabbè Ora Ora però Volevo Andare a provare A accendere Quel falò Che almeno se Morivo Tornavo qua Allora Io vado qua E corro Un po' Accendo il falò Acceso Riposiamo E siamo a posto No Dai Sono rispawnati Già Non è possibile Sto Prima Faccio Il back step Ok Non mi è riuscito Mamma mia Sono anche in due Sti qua E tre Sì Di più No C'è Sì Vabbè Ok C'è quello là Adesso Muori Ah E sparano Molto velocemente Non so se è stato Perché ho acceso Il falò Anche l'arcere Qua Sì Vabbè Grazie Grazie Anche a lei Signor Grazie di più Non posso raccogliere Sti oggetti Anche Sì 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 Allora Qua Una scaletta Vabbè Ci vediamo Anche questo Uh Aiai Però Cazzo Eh Vabbè Anche te Però Muori 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 Eh Quel bel uomo lì Gemma vitale Spada dritta Scusate un attimo Ecco Voglio vedere se siamo Oh Sì Ecco qua Dai Vai su Che voglio uccidere Un attimo Spada dritta Spezzata Però Non è male 110 Stavo 80 Vabbè Intanto Mi tengo Questa No Mezzo Mezzo Intrappolato Dai Davvero C'è Credo Sia di qua Eccolo Eccolo Uh Muori Di là Dovrebbe esserci Un'arma O qualcosa Vediamo Spada Corta Anima di Non morto Per tutto Spada Corta Spada Dritta Pugnale Ah Eccolo qua Spada Corta E' buona Questa E' buona Questa Questa E' buona Mamma mia Io rischio La Questo Giovincello Qui Mi sembra Tanto Una cosa Un po' Strana Cioè Se io faccio Così Ok Non dovevo fare Così E' buona cercando di non morire a ok questo faceva male con l'arco non credo di riuscire no 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 con l'arco non è proprio una bella idea eh lo so sono un po' noiose ste battaglie ma se ti prendo una volta sei morto ah mamma mia che culo ahia sembra vitale corri corri dov'è? ok si ma fa dolore tanto dolore eh gemma gemma non morirmi proprio adesso eh che non ha tanto vita ma io non posso tipo fargli il giro da dietro e dargli pedato sul culo no no mamma mia manca un colpo e muori spada da cavaliere di eide vediamo un po' com'è mmm ah danno fulmine anche vabbè intanto continuo ad usare la getta vabbè finchè non mi si rompe e poi oh 5140 anni di la come si può andare se noi proseguiamo di qua ok ok per questo episodio è tutto la prossima volta ci addentreremo dentro questa caverna che non mi sembra tanto illuminata no proprio per niente vediamo se riesco ad andare un po' più avanti senza iniziare combattimenti vabbè